Il terzo appuntamento, tenuto a Palazzo Florio, ha visto come ospite Andrea Bonifazio, autore del libro Ventimina specie o quasi sotto il mare. In questo libro in realtà parlo sia di cose che magari sono un po' difficili da vedere, soprattutto quando parlo degli abissi, delle profondità un po' elevate, ma soprattutto io cerco di, come dico sempre, sbanalizzare il banale, quindi cerco di mostrare qualcosa che si può trovare facilmente, magari passeggiando in spiaggia, facendo una nuotata, andando tra le pozze di scogliera, qualcosa che magari siamo abituati a guardare ma non a osservare. Quindi il mio invito è sempre quello a osservare veramente ciò che abbiamo davanti agli occhi e quindi magari specie che apparentemente sono comuni, sia animali, alghe, piante e così via, cerco di raccontarle da un altro punto di vista, cerco di spiegare quali adattamenti hanno, perché si trova in un certo ambiente anziché in un altro e così via. Quindi cerco di mostrare anche i soggetti apparentemente banali, però da un punto di vista totalmente inedito, almeno per chi non è del settore, ovviamente, perché si tratta comunque di un testo divulgativo. Durante l'incontro Bonifazio ha risposto alle domande di Laria Rinaudo, responsabile monitoraggio aria marina protetta Isolegadi. Si tratta di un tema importantissimo che è quello della divulgazione scientifica, argomento veramente fondamentale di supporto per le attività di tutela ambientale, perché, come dice lo stesso autore tra l'altro nel suo libro, se non si conosce veramente appieno le bellezze che ci circondano, diventa difficile anche apprezzarne e poter mettere in campo tutte le strategie di tutela necessarie. Quindi informazione, monitoraggio, ricerca sono una strategia di sinergia per poter portare tutti insieme un obiettivo che è quello di aver cura del nostro ambiente, del nostro mare. La rassegna letture tra le isole è organizzata dal Comune di Favignana e dall'Aria Marina Protetta delle Isolegadi. L'Aria Marina Protetta ha aderito immediatamente con grande entusiasmo all'iniziativa proposta e promossa dal Comune di Favignana per la realizzazione della settimana del libro all'interno del grande contenitore culturale del Maggio dei Libri promosso dal Ministero della Cultura. Abbiamo supportato l'iniziativa, oggi abbiamo un importante relatore che si occupa da diversi anni di promuovere la cultura naturalistica nel nostro paese che tanto, tanto fa per le scienze umanistiche ma ancora poco fa nella divulgazione per le scienze naturali.